Dopo una settimana e un giorno di ricovero, Fedez sarà dimesso nel pomeriggio di oggi dall'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato portato sabato 28 settembre per una emorragia causata da due ulcere intestinali. I valori del sangue si sono stabilizzati, e i medici hanno quindi dato il via libera per il ritorno a casa, dove continuerà la sua degenza. Il rapper era stato ricoverato d'urgenza per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna, seguita poi da un nuovo episodio di sanguinamento, che hanno portato il cantante di nuovo in sala operatoria, dove gli era stato bloccato il sanguinamento grazie a un'endoscopia, questa volta però senza la necessità di ulteriori trasfusioni. Durante la degenza Fedez è stato costantemente monitorato dal team di chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Dopo otto giorni di ricovero, finalmente Federico Lucia potrà tornare a casa, circondato dall'amore della sua famiglia. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!